L'economia del mare è uno dei settori a più alto valore aggiunto, capace di generare ricchezza ed attrarre nuovi investimenti da parte dei giovani nell'ambito della ricettività e dello svago. E con queste premesse sono stati presentati presso la Camera di Commercio di Chieti Pescara i due campionati mondiali che si svolgeranno tra settembre ed ottobre lungo la costa adriatica abruzzese. Il primo campionato di pesca d'altura e drifting 2022 partirà il 10 settembre dal porto turistico Marina di Pescara e coinvolgerà circa 15 nazioni da tutto il mondo per conquistare il titolo di campione del mondo di Big Game Drifting 2022. Il trentesimo mondiale è di pesca al tonno, una pesca totalmente green in sintonia con le filosofie della federazione, con il rilascio in vita del pesce, il filmato e la misurazione e quindi una classifica solo in base al numero di catture e alla lunghezza del pesce. Abbiamo una rappresentanza molto nutrita anche perché Pescara a livello mondiale è conosciuta per una grande quantità di pesci dei tonni, tonno rosso, e quindi è ambita da qualsiasi tipo di pescatore sportivo o anche di lettante. Presentato come detto anche il quinto campionato del mondo di surfcasting master 2022 Costa dei Trabocchi che prenderà il via il primo ottobre e toccherà più comuni da Francavilla al mare a Vasto. La prima prova si terrà a Francavilla al mare a nord e a sud del pontile, nell'arenile a nord e al sud del pontile di Francavilla al mare, mentre la seconda prova si terrà sulla spiaggia di Vasto, poi Fossa Cesia ed infine Casalbordino. L'ultima prova terminerà sempre a Fossa Cesia. Il tutto con l'appoggio della Camera di Commercio che ha l'obiettivo di valorizzare entrambe le province di Chieti e Pescara. Essendo una gara a livello internazionale, presentare il nostro marina al mondo è un'ottima occasione. L'altra poi a ottobre si farà nella costa di Trabocchi, raggiungerà diverse località della costa e io credo che sia anche questa una bellissima iniettiva, grazie ai realizzatori, perché farà conoscere il nostro territorio a livello internazionale.